E ora dedichiamo questo articolo a Roberta Di Padua e Davide Donadei, rispettivamente ex tronista del programma di Maria De Filippi ed ex corteggiatrice del Trono Ovar. Attualmente i due sono entrambi single. Infatti Roberta Di Padua si è lasciata definitivamente con Riccardo Guarnieri, mentre recentemente anche Davide Donadei si è lasciato con la corteggiatrice Chiara Rabi scelta nel programma. Secondo alcune segnalazioni che sono pervenute alla web influencer Dejanira Marzano i due avrebbero cenato insieme a Napoli e dopo avrebbero passato la nottata nella stessa camera d'albergo. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confermato la cena, ma non il resto. Ancora più dura la reazione di Roberta Di Padua che però si è fatta attendere per qualche giorno. Roberta Di Padua risponde a quanto successo con Davide Donadei. Roberta Di Padua corteggiatrice Trono Ovar di Uomini e Donne. Ho aspettato un po' è vero. Di cose ne sono state dette tante, alcune giuste, molte errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è così. Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio. E continua nel suo racconto la stessa ex tronista del programma dicendo. Raccontare di una cena e di un incontro è gossip, speculare, inventare e condannare, senza conoscere e senza sapere, una donna single che ancora prima di essere un personaggio pubblico è una persona normale, padrona delle proprie scelte e della propria vita, è sciacallaggio, pseudo gossipari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine. E su questo l'ex tronista di Maria De Filippi è veramente molto dura, infatti ci tiene a precisare che questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria e eitar. Il parere e l'appoggio del pubblico, non sono state mai tra le mie priorità, sono libera, diretta, ho deciso sempre secondo la mia testa e il mio cuore, difficilmente avete condiviso le mie scelte ma la vita, bellissima è una, è mia. E la sua conclusione è molto dura, infatti dice che. Con il tempo qualcuno si è ricreduto, qualcuno no, io lascio sempre la libertà di opinione, non si può piacere a tutti. La verità, come sempre, verrà fuori ma da me. Il tempo, come già accaduto, darà le risposte. Fate sogni tranquilli.